No, ma dopo ha giocato la briscola per lasciare l'ultimo di mano e io mangio la sua briscola per non far caricare voi due e lo lascio l'ultimo di mano dopo? Ma non è compagno lui, perché è compagno lui? Ma perché deve essere compagno? Non può essere compagno. Non è per forza il compagno che si sta preso, non è che si deve caricare per forza. Oh Andre, che ne pensi? Che ne pensi su questa campiera? Non c'è stata la campiera a giocare nessuno, però capiscono tutti. Sì, è tutto il compagno. Tutti i fenomeni, tutti i carichi, abbiamo perso, per interdire la mia realtà, senza lui che non è un compagno. Segnare, grazie. Perché buttare l'aria? Perché ultimo metodo? Segnare, grazie, che ho detto sbagliato. Che c'avevi? Questa... Sì, tu carichi la barra già. Non ci gioco più a loro? Non carico? Perché io con... Non ci gioco più? Quattro metodo. Segnare, grazie, mi ha avuti. Ma chi ha sbagliato? Vabbè, ho solamente sbagliato. Non posso, non c'è una bella. Se hai messo a ride, gli ha detto... Caride, quando hai giocato il 5. C'è, mi ha visto a ride. Ok, se devi vedere. Non ci ho messo a ride. Ma no, io la dico. Se si vinceva, grazie. C'è, c'è un solo fulcro in questo... La goccia che ho fatto... La goccia che ho fatto... La goccia che ho fatto... Sì, infatti basta. Ho bruciato qui... Sì, questo è il mio... Lo rimetto di tutto. Fox, però stai a meno 15. Forza. L'anno scorso tutto finì per il mio asso di compo. L'anno finisce contro i bastoni. No, ci stavo per il gioco. Aspetta, per il gioco. Tra che... La mano d'osso... Ho fatto io. Però ho fatto 30 punti... È meglio. Vuoi dire che parte lui... Non abbiamo fatti 20. Quindi voi mi state... Cioè, state dicendo... Questa è me la cosa. Sì, ma guarda che... Prendere 20 punti con un 2 di briscola... Però poi riparte lui... Piuttosto... Gli facciamo 30, però poi riparto io. Scusi un attimo. Perché lui deve per forza darti i punti? Meglio 30. Meglio 30, ok. Allora non ho sbagliato. Ok, Birelli, ma perché deve darti per forza... Ma perché deve darti per forza dei punti? No, la facciamo. È proprio come il capo. Lui cassa con un 2 di briscola... Si è preso 20 punti... Non è il compagno? Dov'è? Dov'è la giocata sbagliata? Ci sta anche se tu pensi che sia lui. Però... Ormai è a battezza che... Però se è lui abbiamo già perso. Quindi dalle a lui... Vito. Vito, vuoi dire. Perché se è lui può farci... Non perde. Manuere.